In Europa Ferrero che cosa può fare per il suo territorio? Ferrero è un uomo che viene dal mondo dell'agricoltura. L'agricoltura oggi è uno dei grandi settori che viene gestito, governato e guidato soprattutto a livello europeo. Contano molto più le decisioni prese a Bruxelles in materia agricola di quelle che si possono prendere a Roma piuttosto che a Parigi o a Berlino. E più in generale l'Europa è sempre di più nella nostra vita. Oggi non c'è nessun tema importante per la vita dei cittadini che possa essere adeguatamente risolto soltanto su base nazionale. Pensiamo a un tema come quello dell'immigrazione. È molto più credibile che l'Europa si dia una politica comune piuttosto che pensare che 27 paesi ognuno fa una politica propria magari scaricando l'immigrato sul paese vicino. Pensiamo alla crisi industriale e economica che sta investendo l'Europa. Per uscirne una politica industriale, una politica delle grandi opere infrastrutturali, una politica della ricerca e dell'innovazione comune europea sarebbe molto più forte di quanto non lo possano essere semplici politiche nazionali. E si potrebbe continuare. Viviamo in un mondo che è il mondo della globalizzazione nel quale sempre di più la dimensione europea è necessaria. Perché? Perché dobbiamo fare i conti nel mondo con la Cina, un miliardo e 300 milioni di persone, con l'India, un miliardo di persone. Un'Europa che voglia competere con questi paesi deve darsi le dimensioni adeguate, se no non è il fisico come si dice. E quindi l'Europa è una dimensione necessaria. Però, finisco il ragionamento, se è così necessario non è indifferente chi guiderà l'Europa nei prossimi anni. La guiderà uno schieramento conservatore o progressista? Perché come in Italia si possono fare politiche di destra o di sinistra, anche in Europa si possono fare politiche o conservatrici o progressiste. E noi chiediamo un voto per il PD e per Ferrero per portare al Parlamento europeo l'Italia che si batte per un'Europa progressista. A questo proposito ci troviamo alla Vias Auto che è un po' il simbolo della crisi industriale qui ad Asti. Che opportunità ci sono in Europa per la Vias Auto? Pensiamo a quello che sta facendo la Fiat. La Fiat nel pieno di una crisi del settore automobilistico sta cercando di creare un grande polo assorbendo Opel e Chrysler per costruire un grande produttore mondiale molto più grande di quanto Fiat, Opel e Chrysler sono da sole in grado di competere con i grandi produttori giapponesi o con i grandi produttori americani. Ecco, il settore automobilistico per esempio se vuole uscire dalla crisi ha bisogno di muoversi su scala continentale, in questo caso addirittura su scala mondiale. È un buon esempio della necessità di non chiudersi soltanto nei confini della propria nazione perché per ogni tema, come per esempio i temi legati al lavoro, all'industria, allo sviluppo, servono politiche nazionali, ma l'efficacia delle politiche nazionali necessita di una dimensione più ampia in cui collocare questa politica che è la dimensione europea. Ecco, ultima cosa, Ferrero abbraccia la rivoluzione verde di Obama. E pensa che per il PD questa sia un'impostazione da cui trarre ispirazione sia un'opportunità? Direi proprio di sì, e anzi, nel codice genetico del PD, che è nato prima che Obama diventasse presidente degli Stati Uniti, noi abbiamo sempre detto che il tema della sostenibilità ambientale, cioè di uno sviluppo che sia capace di costruire una nuova compatibilità tra le ragioni della natura e le ragioni della produzione, tra le ragioni dell'uomo e le ragioni del mercato, vivere in un ambiente nel quale la gente sia sicura dell'acqua che beve, dell'aria che respira, di quello che mangia, del territorio in cui vive, e questa è una grande scelta anche di sviluppo. La Germania, che è un paese sempre molto dinamico nelle sue politiche di investimento, negli ultimi dieci anni ha investito moltissimo nella costruzione di un vero e proprio nuovo comparto industriale legato alla sostenibilità, le tecnologie per l'ambiente, le tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti, le tecnologie per l'energia pulita, le tecnologie per un'agricoltura genuina e tipica. Quindi la green economy è una grande opportunità e sempre di più noi dobbiamo pensare allo sviluppo legato alle ragioni della vita.